allora ero lì pronto a capparti tanto l'avete asciugata tutta adesso luigi ma che cancello cadono di più a piedi che in moto c'è la piccozza anche ci prova ci prova ma sei indeciso era un po' corto tanto ti accappavo comunque ma io lo so che i zampini è una sicurezza seri eh però lì ho perso un po' di velocità il pello in più è risciuto però dimmelo cazzo che stiamo qua l'ultima volta guarda che carico hai fatto tutte le zone quando veni i zampini ti devi fidare oh i novellini li ho preso eh e te la scusa ce l'hai sempre pronto dici che quando sono caduto e quando sono caduto prima allora Roberto ma che salta fuori il video del secolo bravo bravo dai fai te quello lì che lo fanno tutti dopo si io mi metto lì negli alberi bravo bravissimo per ramoli del cazzo che non va bene te lo vedo qua quello lì ora lo tagliamo è stupido perché tanto non serve perché è tutto piegato e anch'io mi sa che ce l'ho là allora un po' Vito hai fatto niente ciao